buongiorno a tutti sono stefano dimitri consulente immobiliare remax della polare oggi mi trovo a bari esattamente nel complesso residenziale bari domani tra lo stadio san nicola e santa caterina vi mostrerò un rifinito appartamento di tre bani incluso abbiamo di pertinenza un box auto e una cantina seguitemi buongiorno a tutti buongiorno a tutti buongiorno a tutti sono certo che questa casa vi sia piaciuta adesso non vi resta che contattarmi a presto a presto a presto a presto